Tommaso Cassandro è a vostra disposizione, c'è la prima domanda di Carmen Tommasi, Telerama. Tommaso buongiorno, due domande. Io volevo sapere com'è l'umore della squadra dopo queste quattro sconfitte di fila e poi su cosa insisterete in questa sosta per arrivare alla prima gara di aprile con l'Empoli preparati e pronti. Buongiorno, innanzitutto l'umore nello spogliatoio non è cambiato questa settimana, neanche quando abbiamo vinto contro l'Atalanta. C'è sempre ottimismo e anche spensieratezza perché sotto questo aspetto il mister e lo staff sono bravi ad analizzare le partite in maniera oggettiva e non farsi trascinare da risultato, cosa che accade molto spesso nel calcio. e quindi diciamo che sappiamo dove dobbiamo migliorare, abbiamo analizzato gli errori, però c'è anche la consapevolezza che siamo andati in ogni campo a cercare di fare la nostra partita e dobbiamo essere, sì, forse un po' più attenti o comunque sapere che gli episodi in Serie A sono vitali per noi. Per quanto riguarda la partita di Empoli, il mister non ha già perso tempo, nonostante ci sono molti ragazzi in nazionale, la stiamo già preparando sia dal punto di vista mentale che tattico e sicuramente ci faremo trovare pronti. Per Andrea Casto, Salento Lai 24 Ciao Tommaso, allora davanti nel ruolo hai un sette polmoni come Jean Drey, però nell'ultima partita ti ha lasciato spazio, che emozioni ti ha dato questo esordio in Serie A? Devo dire che quando sono entrato non pensavo alla soddisfazione e all'emozione perché dovevo aiutare la squadra a portare a casa il risultato, comunque cercare di segnare. Poi a mente fredda ero molto dispiaciuto per la sconfitta perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Vale mi ha fatto questo regalo che gli sono venuti i crampi, io ho cercato di restare concentrato, di farmi trovare pronto e sono soddisfatto per questo mio piccolo traguardo ma penso che non sia nulla, anzi devo migliorare su molti aspetti e farmi trovare pronto in altre circostanze per aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo. Poi volevo chiederti anche, vieni dal Cittadella una squadra che sforna sempre buoni giocatori, per esempio adesso si è messo in luce Antonucci quest'anno che viene da una squadra primavera come quella della Roma, lui o quale altro giocatore del Cittadella ti piacerebbe ritrovare l'anno prossimo qua a Lecce? Beh ti dico, la Cittadella per me era una seconda famiglia perché davvero c'era un gruppo fantastico con cui avevo legato benissimo con tutti e quindi ti dovrei dire qualsiasi giocatore va bene. La Cittadella c'è una filosofia diciamo molto familiare e quindi questo aspetto senza molte pressioni da parte dei tifosi, senza molte aspettative anche da parte del mondo calcistico, siccome aiutano a far esprimere soprattutto i giovani nelle migliori condizioni possibili. Poi ovviamente il direttore è bravo a trovare i giocatori funzionali al gioco del Cittadella e poi i giocatori si fanno trovare pronti in campo e questo l'ha dimostrato Mirko, l'ha dimostrato Baldini, adesso Crociata che ha fatto un espload incredibile da gennaio, ma qualsiasi giocatore a Cittadella dà l'anima, si spende per la squadra e poi i risultati avvengono come stanno venendo qua a Lecce dove ogni giocatore partecipe, dove ogni giocatore si sente parte integrante del gruppo e danno una mano a ciascuno quando vengono chiamati in causa. Filippo Derri, Pianeta Lecce. Buongiorno Tommaso, due domande. La prima, qualche ex compagno del Cittadella ti ha scritto dopo l'esordio, penso a Pertigone con cui è un grande rapporto, mentre la seconda, si è passato dalla Serie B alla Serie A in pochissime ore, si sente un gap importante tra le due categorie o nemmeno c'è pensato? No, come ho detto con i ragazzi di Cittadella ho un rapporto bellissimo, quindi in molti mi ha scritto Roma, ma lo sento quotidianamente perché lui mi ha aiutato molto in questi due anni e mezzo a Cittadella, sia dal punto di vista difensivo, sia dal punto di vista mentale dell'approccio alla partita. Diciamo che era molto contento, ma non esterna le proprie emozioni, anzi mi dice sempre devi migliorare qua, devi migliorare di là, quindi lo tengo come un mister di casa che mi aiuta su vari aspetti. Per quanto riguarda il gap dalla Serie B alla Serie A, posso dire che è davvero notevole, sia dal punto di vista fisico, mentale, tecnico. La cosa che mi ha colpito maggiormente è stato l'errore individuale, può compromettere una prestazione, il risultato di squadra, e quindi ci deve essere un'attenzione maniacale in ogni minuto della partita, dal primo minuto fino al novantesimo, novantacinquesimo, perché ogni errore può essere fatale e può compromettere appunto delle prestazioni ottime che però vanno a influire sul risultato. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondoradi. Buongiorno e congratulazioni per questo esordio. Per quanto riguarda la sua carriera, lei inizialmente nel Giovaniti nasceva come mezzala, poi comunque la carriera è andata come terzino destro, jolly della difesa. In questa avventura, in questo inizio di avventura con mister Baroni, ci ha parlato, c'è solo il ruolo di terzino destro, del vice di Gendrei, oppure ci può essere qualcos'altro? No, come hai detto bene, io avevo iniziato da centrocampista, e poi in primavera, quando andavo su in prima squadra a Bologna, mi aveva andetto il direttore Bigon, quando aveva preso il posto del direttore Corvino, vedevano in me una prospettiva da terzino, e inizialmente io ero un po' scettico, però poi dopo qualche anno gli avevo detto sia al mio mister in primavera, sia a Inzaghi in prima squadra, che dovevano cambiarmi di ruolo prima, perché avevano ragione, infatti li avevo ascoltati. Per quanto riguarda il mister, ci ho parlato, è uno che mi parla molto, parla con ciascun giocatore, coinvolge tutti, e aiuta ogni singolo giorno a migliorare a livello individuale. Per quanto riguarda il ruolo, sto facendo il terzino destro, perché anche negli altri ruoli siamo ben coperti, e penso che non ci sia bisogno che io mi debba cambiare il ruolo. Poi se c'è la necessità, io sono disposto a giocare in qualsiasi zona del campo, però penso che ad oggi non ci sia la necessità di cambiare il ruolo. Lei è laureato in scienze motorie. Questa qualifica, questa laurea, quanto l'aiuta sul campo e durante gli allenamenti e durante la partita? Io inizialmente avevo intrapreso questa avventura scolastica per quanto riguarda l'università in scienze motorie e indirizzo calcio, perché mi faceva molto piacere mantenere la mente attiva. Siccome avevo del tempo libero, avevo il piacere di iniziare questo percorso, sono riuscito a concluderlo in tre anni e adesso sto continuando in management dello sport, che diciamo che è più il ramo che mi interessa per quanto riguarda la gestione della squadra e dell'aspetto societario. riguardo alla triennale mi ha dato un'infarinatura generale riguardo a quello che svolgo quotidianamente e quindi mi ha dato anche la possibilità di capire meglio i lavori che facciamo e diciamo che mi piace sapere quello che faccio e per questo ho anche intrapreso quella strada per quanto riguarda la laurea triennale. Se non ci sono altre domande, l'ultima domanda Carmen Tommasi. Io volevo sapere quanti punti mancano a Lecce secondo lei per conquistare la salvezza? Non so dirti quanti punti servono, so solo che ogni partita per noi è vitale e molto importante. Sono convinto che queste ultime partite le giocheremo come abbiamo sempre giocato, con la spensieratezza, con la positività, con la coesione e con la voglia di dimostrare che noi in Serie A possiamo fare molto bene. L'abbiamo dimostrato, adesso arriva il rush finale e ci faremo trovare pronti. Grazie a Tommaso Cassandro, grazie a tutti voi. Grazie a voi.